Sì, buongiorno a tutti. È bello vedere una presenza così numerosa quando si parla di cultura e di questo bisogna dare atto alla Segreteria Nazionale, a Matteo, a tutti coloro che hanno collaborato, anche ovviamente al Partito di Roma per la ottima riuscita della manifestazione. Nell'incontro sono già state dette molte importanti cose, io non le ripeterò, tenterò invece velocissimamente di portare un'idea, una lettura di ciò che è accaduto in questi anni e di cosa si dovrebbe fare. In questo senso partirò da questa immagine. Ricordo quando ero più piccolo, mio padre che cercava di farmi seguire il telegiornale, lo facevo e all'ultimo vedevo nella parte delle notizie economiche gli indicatori di ricchezza e di crescita di produzione di un Paese. Mi ricordo l'elenco di queste voci, settore manifatturiero se guadagnava o perdeva punti, settore siderurgico, agricoltura, via dicendo, poi le materie prime eccetera. Oggi che con un figlio ancora un po' piccolo però cerco di abituarlo anche a guardare il telegiornale, vedo che alla fine quando si parla appunto degli indicatori di ricchezza di un Paese e della sua capacità produttiva non ci sono più quelle voci ma ci sono i titoli degli istituti di credito, delle banche e il loro andamento sul mercato. Quindi ho cercato di capire come mai a voci che si riferiscono alla produzione di settori di economia reale e che erano gli indicatori della ricchezza di un Paese, oggi si sono sostituite delle voci e degli indicatori che si riferiscono all'economia finanziaria. E quindi ho capito, ho avuto davanti con questa immagine la fotografia del cambiamento di questi vent'anni, cioè l'evoluzione del capitalismo classico orientato alla produzione a un capitalismo finanziario, la finanziarizzazione del processo produttivo. E oggi vediamo come questo sistema è entrato in crisi, in difficoltà e tutti gli sforzi che sono figurati nei grandi cambiamenti politici che noi stiamo seguendo in questi giorni. Perché parto da questa immagine? Perché se si guarda anche ciò che è accaduto nel mondo della cultura e non solo, noi vediamo che questa finanziarizzazione dell'economia che ha cambiato la società, che ha modellato le architetture statuali, il modo di vivere e di essere degli enti locali, ha toccato fortemente anche il processo di sviluppo culturale. Quando noi diciamo che la cultura è diventata solo spettacolarizzazione, solo immagine, solo televisione e per questo vanno in sofferenza settori come il teatro, come la lirica e come altri e ne cerchiamo le ragioni, sbattiamo sempre la testa su ragioni economiche e forse l'ultima e più forte ragione economica per cui ciò è accaduto è proprio questa. Quando si parla oggi di arrivare verso un'Europa unita a una BCE prestatore di ultima istanza, di cedere sovranità a un processo di formazione europea batte il nostro cuore pensando a De Gasperi, a Spinelli e dopo a Ciampi, a Mato e via dicendo, ma ci spaventiamo anche un po' perché abbiamo paura che questo percorso oggi viene accelerato più dalla necessità di mettere in fila un processo di crisi dell'economia finanziaria che un percorso formato socialmente, culturalmente vissuto. Allora è ovvio che è un percorso che va fatto e verrà fatto, ma proprio quando questo percorso accelererà e anche il nostro Stato sarà chiamato a dare il proprio assenso, a cedere alla sovranità, il buon lavoro che deve fare il governo Monti, ecco lì io credo che torneranno al centro della discussione, devono tornare due temi fondamentali. Primo, riorientare l'economia a una cosiddetta economia reale scioglierla sempre di più dalla parte della finanziarizzazione del percorso economico perché se questo noi facciamo lì troviamo anche tante risposte che servono alla cultura di cui abbiamo parlato oggi. Ne cito tre per rapidità. Ovviamente una comunità europea e uno Stato che improntano il loro sforzo in una politica economica reale danno forza agli enti locali. La forza agli enti locali permette di creare enti di scopo che valorizzano il patrimonio artistico, che danno nuova linfa alla costruzione di infrastrutture legate alla cultura e che riescono ad attuare l'operazione non di privatizzazione come vorrebbe il centrodestra ma di partenariato e si orienteranno in un partenariato con il privato che sia un privato etico, un privato che abbia a cuore non solo che abbia a cuore l'implemento della produttività dei settori culturali. Esempio figurativo. Si è aperta una discussione sulla creazione del macro e sulla sua figura giuridica, una discussione sulla modifica giuridica di palespo e l'ingresso dei privati. Il tema qual è? Noi come gruppo consigliare comunale abbiamo ovviamente respinto questi assalti riuscendo a tenere pubbliche queste istituzioni ma fermo restando che il pubblico non deve arretrare e tenere un ruolo di guida, l'apertura ai privati si è ragionata non con istituti di credito, assicurazioni ma con quel privato che molte volte è già fornitore di queste aziende municipalizzate, che a cuore lo sviluppo della produzione di queste aziende, che aumenta e non fa perdere i posti di lavoro, che non valorizza il patrimonio di opere d'arte e diciamo anche l'infrastruttura che gli si mette a disposizione valorizza in senso finanziario ma che anzi ha a cuore il contrario. Allora questa può essere una grande battaglia del Partito Democratico detto in sintesi. Se si andrà uno spartiacque vista anche, finisco, se si andrà uno spartiacque vista anche l'approvazione della legge di stabilità e questa nuova manovra che impone ad esempio al Comune di Roma, prima era un'opzione ora impone l'uscita da parte delle municipalizzate, se si andrà questo spartiacque il tema tutto pubblico tutto privato è un tema irrealizzabile nell'uno e nell'altro polo. E allora la battaglia si sposterà, e chiudo davvero, su chi propone delle soluzioni. Queste soluzioni io credo il PD le debba trovare in quel patrimonio che ha da sempre, in quell'imprenditoria etica orientata al prodotto, nelle centrali cooperative e in tutto quel gran mondo della cultura, finisco, della cultura che può essere partner delle istituzioni pubbliche investendo con loro sul futuro. Grazie.